ciao bentornati sul mio canale benvenuti in un nuovo video oggi facciamo la recensione di un prodotto per la skin care e più precisamente di un prodotto Yves Rocher ovvero questo prodotto qui il Sebo Vegetal Pure di Yves Rocher che è una lozione che suppongo sia schiarente una lozione chiarificante comunque illuminante non so ora naturalmente qua io e il mio francese non andiamo d'accordo che è studiata naturalmente per chi ha la pelle grassa questo assodato ha un paio di sei mesi suppongo sia una non so se è una mini taglia questa qui sono 50 ml di prodotto e appunto come vi ho detto prima ha un paio di sei mesi dall'apertura ah ok qua c'è scritto che è una lozione appunto purificante vabbè questo si si evince anche dal nome che comunque è una una lozione ideata e pensata per chi ha la pelle grassa allora cosa penso di questa lozione dunque nel negli ingredienti troviamo l'acqua al primo posto e subito dopo l'alcol quindi capirete che non è una lozione per chi ha la pelle sensibile perché l'alcol al secondo posto dell'inci aggredisce la pelle in maniera allucinante quindi è un prodotto abbastanza aggressivo perché di base dovremmo evitare i prodotti con l'alcol perché l'alcol danneggia la pelle quindi questo è già un punto a sfavore di questo prodotto chi mi conosce sa che io non amo particolarmente i prodotti iberosce io sono assolutamente sincera perché tutto quello che ho provato di iberosce non mi è piaciuto a parte forse una sola cosa che ho provato in passato stiamo parlando di una recensione fatta parecchio tempo fa a parte una cosa un paio di cose però la maggior parte dei prodotti anche dell'ordine che feci mi pare l'anno scorso non mi piacciono vi ho recensito diverse cose del iberosce vi lascio i link in una scheda anche di quella vecchia recensione comunque degli unici due prodotti che mi sono piaciuti se riesco a trovarla perché comunque stiamo parlando di una recensione che penso ho fatto almeno tre anni fa quattro anni fa neanche mi ricordo comunque a parte quelle due cose a me di iberosce non piace niente di quello che ho provato andrò controcorrente perché tutte quante ne decantano le come direbbe se un mafia le bellezzitudini di questo brand ma onestamente io fino adesso non ho trovato niente che mi piaccia a parte quelle due cose questa questo prodotto per me è un nì è un nì e ora vi spiego perché a parte il fatto che ribadisco che non mi piace il fatto che abbia l'alcol al secondo posto nell'inci perché già questo lo rende un prodotto troppo aggressivo dopo troviamo l'aloe la dicerina la mamelis poi vabbè ovviamente non essendo un prodotto biologico ha delle cose chimiche peg 40 insomma diciamo che l'inci non è che sia sbrilluccicoso ecco mettiamola così però vabbè dico comunque sia se non siete attenti all'inci non è questo il problema io diciamo sono abbastanza attenta all'inci comunque ho voluto lo stesso provarlo perché non uso solo cose biologiche come ben sapete c'è anche acido salicilico che quindi va ad esfoliare a produrre una leggera esfoliazione alla pelle insomma degli attivi che possono comunque essere abbastanza discreti per andare a esfoliare la pelle ecco l'unica cosa che non mi piace di questo di questo prodotto dell'inci di questo prodotto è il fatto dell'alcol fattore alcol comunque a prescindere da questo perché per me questo prodotto è un nì perché allora io non posso non posso bocciarlo perché comunque i risultati me li ha dati me li ha dati e mi ci sono trovata abbastanza bene fino ad un certo punto allora credo che questo sia un prodotto che non si possa usare tutti i giorni è un prodotto che secondo me va utilizzato all'occorrenza e va utilizzato soltanto da chi ha una pelle grassa perché per me una pelle secca da questo prodotto viene seccata ancora di più per via dell'alcol e soprattutto non lo deve usare chi ha la pelle sensibile per quanto io non ce l'ho particolarmente sensibile alla pelle quindi comunque l'ho utilizzato l'ho utilizzato in un periodo della mia vita in cui avevo parecchi brufoli soprattutto nella parte di sotto per via probabilmente della mascherina e del fatto che utilizzavo tutti i santi giorni la protezione solare sotto il fondotinta cosa che in questo momento non sto facendo più ora io non vi sto dicendo di non usare la protezione solare però su di me la protezione solare è occlusiva e mi fa spuntare imperfezioni quindi preferisco utilizzare dei fondotinta o delle creme da giorno che la contengono piuttosto che andare a mettere la protezione solare ovviamente avrà una protezione più bassa però lo preferisco perché la mia pelle grassa si occlude e quindi mi spuntano imperfezioni che già spuntano normalmente con la mascherina questo prodotto mi ha aiutato molto e anche abbastanza velocemente perché nel giro di una settimana mi ha asciugato tutti i brufoli che avevo e ne avevo parecchi anche sul collo insomma mi stavo consumando la pelle con questi brufoli e questo prodotto me li ha fatti comunque passare me li ha fatti passare me li ha asciugati me li ha fatti passare quindi sicuramente è un promosso da utilizzare all'occorrenza sicuramente non due volte al giorno sicuramente non al posto del tonico e secondo me non lo dovreste usare il giorno ma bensì solo la sera perché contiene acido salicilico estratti di flutta insomma essendo un prodotto che va ad esfoliare la pelle secondo me è meglio non usarlo il giorno e usarlo soltanto la sera questo è un consiglio poi magari si può usare anche di giorno magari qualcuno di voi lo usa di giorno e si trova bene non trova macchie però io per evitare l'ho utilizzato una sola volta al giorno quando mi sono passati i brufoli io ho continuato ad usarlo questo perché comunque si può teoricamente si potrebbe usare al posto del tonico ho continuato ad usarlo ma mi stava cominciando a seccare la pelle perché una volta passata il problema che avevo sul mento e sulla vascella e sul collo la mia pelle forse si era regolarizzata anche un po in fattore sebo quindi nel momento in cui la mia pelle non ha avuto più bisogno di questo prodotto ha cominciato a seccarsi sulle guance anche in fronte proprio avevo la pelle molto molto secca probabilmente per via dell'alcol è presente nella formulazione e perciò ecco perché dico che è un nì per via dell'alcol ma è sicuramente un promosso e che consiglia a chi ha una pelle eccessivamente grassa e magari problemi di sfoghi cutanei e non ha la pelle sensibile ad usare questo prodotto magari per un tot di tempo e poi utilizzarlo magari all'occorrenza se vedete che avete la pelle un po più grassa se vi serve un'esfoliazione se comunque vi serve una regolarizzazione sebacea ok non so chi di voi ha utilizzato questo prodotto se lo avete utilizzato scrivetemelo sotto nei commenti io vi risponderò molto volentieri se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mi raccomando lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social soprattutto su instagram che è il social che uso di più ciao ciao e al prossimo video ciao